Francesco Longanesi Cattani, mesi difficili a Oakland, ti ricordiamo con la tua t-shirt, con la tua maglietta gialla, no? della divisa della Prada Cup, hai lavorato tanto, c'è stato tanto da fare, però qual è il tuo bilancio di questa edizione dell'America's Cup? Il mio bilancio non può essere che positivo, ovviamente come hai sottolineato tu, sono stati mesi difficili a volte, intensi tutti i giorni e il bilancio però è stato positivo sia da un punto di vista dell'organizzazione delle regate perché c'è stato un grandissimo seguito, un grandissimo ritorno televisivo, un grandissimo tifo poi ovviamente per l'Italia e poi siamo riusciti a portare a casa quello che volevamo, nel senso che il rispetto delle regole, delle regate che si sono svolte in un modo positivo, equilibrato e quindi appunto nel rispetto delle regole non è stato sempre facile tutti i giorni far rispettare questi accordi e queste regole. Senti, allora forse non tutti sanno che tu hai fatto un giro del mondo, una wheat bread around the world race, no? Quindi hai solcato gli oceani e adesso ti ritrovi alla Coppa America di Patrizio Bertelli perché tu sei il direttore della comunicazione del gruppo Prada, quindi hai rappresentato Patrizio Bertelli che a Oakland a causa Covid non è potuto essere presente. Com'è Patrizio Bertelli in questa sua passione viscerale per la Coppa e per la vela, questo che ha creato in qualche modo, lui lo ripete spesso, un movimento anche di giovani, di famiglia intorno alla vela? Innanzitutto è autentico, cioè non è strumentale. La passione di Patrizio Bertelli per il mare, per la vela, in tutte le sue forme perché Patrizio Bertelli è conosciuto per la Coppa America ma è bravissimo nelle regate di barche storiche, ha tre belle barche storiche con cui regata stando lui al timone, quindi è una passione autentica. Le vacanze le fa sempre in barca e quindi non è, come molti possono pensare, un esercizio di marketing o di vendere più borsette. È proprio una passione, un sostegno per un progetto in cui lui crede. Tant'è vero che Patrizio dice io voglio vincere la Coppa America ma non la voglio vincere a tutti i costi, la voglio vincere con le mie regole, con i miei principi rispettando una certa etica sportiva che questo va molto a suo onore e molto a suo vantaggio. Grazie. Grazie.